Torna il jazz italiano per le terre del sisma, presentato a Roma e alla sua nona edizione. Più di 200 musicisti coinvolti anche quest'anno, 50 concerti, 15 location e 20.000 spettatori attesi. Questi i numeri. Il tema di questa edizione è Movimenti, scelto dai tre direttori artistici Francesca Corrias, Roberto Ottaviano e Fausto Savatteri. Un percorso che coinvolge come sempre quattro regioni e che tocca Camerino, Castelluccio di Norcia, Matrice e L'Aquila, unite dal terremoto ma anche dalla rinascita. Il festival è organizzato dalla Federazione Nazionale del Jazz Italiano, con il coordinamento operativo dell'Associazione Jazz all'Aquila, promosso dal Ministero della Cultura, da Comune, Regione e altri sponsor, quello principale, SIAE, coinvolte anche le principali istituzioni culturali cittadine. Si parte il 25 agosto da Camerino con concerti e trekking. L'arrivo all'Aquila è previsto nel fine settimana, 2-3 settembre. Quest'anno si celebrano pure cent'anni dalla nascita di George Russell. Nel capoluogo il sabato ci sarà un evento originale, una partita a scacchi musicali alle 99 cannelle, tre nomi presenti la USA Story Ensemble, Cristina Zavalloni, Giogette Le Sforo e tantissimi altri, oltre a molte orchestre. Il tre spazio alla solidarietà, con un evento dedicato alle popolazioni terremotate di Turchia e Siria al Parco della Memoria. Come ogni anno saranno consegnati i premi alla memoria, prosegue l'iniziativa Il Jazz va a scuola, ma c'è molta attesa per l'esordio dell'orchestra jazz che vorrei l'Aquila, sostenuta da Conservatori Comune, formata da oltre 50 giovani musicisti dagli 8 ai 18 anni, guidata dal maestro Pasquale Innarella.